Vento sempre più forte e pioggia abbattente su tutto il sud Italia. In particolare a Napoli il ciclone Zissi sta causando non pochi problemi. Alberi caduti, tetti scoperchiati dal vento, interventi di messa in sicurezza per il clolo di calcinalci dagli edifici. Centinaia le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco per allagamenti nell'area flegrea e in provincia di Napoli. Pali della luce, piante e cartelloni pubblicitari inclinati. Alcune zone del lungomare sono state chiuse per le onde e le forti raffiche di vento. Lavoro straordinario ieri per gli agenti della polizia municipale di Napoli che hanno transennato una parte di piazza municipio a ridosso di Palazzo San Giacomo per il clolo di alcune tegole dello stabile che ospita il comune. L'intera facciata è stata messa in sicurezza e le tegole pericolanti sono state rimosse.